Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedele. Vediamo la stazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per forti raffiche di vento e mare molto mosso, sono sospesi i traghetti di collegamento con l'arcipelago, si registrano raffiche a 108 km orari. Per la mobilità il traffico si è regolarizzato sulla rete autostradaria regionale in Fipilì, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Empoli ed Empoli Est in direzione del capoluogo. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Firenze-Lisbona dalle 12.15 è al momento segnalato in partenza con un'ora e mezzo di ritardo alle 13.45. Buonasera, Sintro Scana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.